Buongiorno a tutti, buongiorno mister, si va a Monopoli, immagino ci sia già grande voglia di riscatto per ricominciare a correre e le chiede insomma come ci arriva la squadra, come l'avete preparata e cosa portano da Ausilio e Rocca che sono gli ultimi due colpi di mercato, non abbiamo avuto modo di parlarne prima. Sì, ci deve essere sicuramente grandissima voglia di riscatto, di rivalsa dopo una partita persa in malo modo contro un avversario che seppur venisse da dei risultati importanti era rimasto comunque in inferiorità numerica dopo 20 minuti e questo un po' ci ha fatto arrabbiare molto perché potevamo fare sicuramente di più e quindi nella partita di domani mi aspetto sicuramente quella voglia di riscattare quanto ho fatto lunedì sera. Per quanto riguarda invece D'Ausilio e Rocca sono due giocatori che vanno a riempire una lista di giocatori con delle caratteristiche diverse, con delle possibilità a me che sono l'allenatore di comunque poter adoperare due giocatori con quelle caratteristiche che un po' ci mancavano. D'Ausilio come vi ho già detto a campo aperto e negli spazi è un giocatore che diventa devastante e Rocca è sicuramente una mezz'ala di qualità che può darci veramente tanto. Buongiorno Ministro chiaramente ci sarà modo nei prossimi minuti di parlare meglio e ancora più compiutamente della partita di domani che è una partita difficilissima che arriva tra l'altro dopo una settimana molto molto particolare però visto che si è chiuso il mercato ieri abbiamo parlato di questi ultimi due facciamo un po' il riassunto e allora se arrivi se sono tutti giocatori funzionali immagino di sì però che lei ha condiviso nelle scelte così chiariamo anche questo aspetto e poi anche se c'è una dinamica se ci può spiegare certe dinamiche tipo seguire i garattoni che ha certe caratteristiche poi arriva Giano se va tutto bene così le ottiche ancora non è pronto insomma se ci spiega un po' le dinamiche e come ci si è arrivati alla conclusione di questo mercato grazie. Allora innanzitutto ci tengo a dire che sono molto soddisfatto per quanto fatto nel mercato di gennaio che è un mercato che voi sapete benissimo non è affatto semplice molto più complesso molto più complicato rispetto al mercato di luglio e quindi per tutto ciò che è stato fatto sono mi ritengo molto soddisfatto secondo me la società ha operato molto bene e nelle entrate e nelle uscite perché nelle uscite si è data la possibilità a quei giocatori che da quando io sono arrivato hanno avuto poco spazio e quindi gli si è data la possibilità di andare a trovare continuità di trovare più spazio da altre parti e questo è un qualcosa che non sempre succede nel mercato di gennaio e non era una cosa affatto scontata e semplice. E poi per quanto riguarda gli innesti siamo riusciti chiaramente a mettere dentro dentro la lista dei giocatori funzionali dei giocatori che hanno portato quelle caratteristiche che un po' ci mancavano entro nello specifico De Cristoforo un giocatore che ha delle caratteristiche ben precise classico giocatore che deve rubare i palloni che dà sostanza che dà gamba che dà forza in mezzo al campo in una zona nevralgica del campo. Rocca ho appena detto un giocatore è una mezzala di qualità, bravo nel fraseggio, bravo anche negli inserimenti perché ha i tempi giusti poi è chiaro che ora bisogna capire la condizione fisica. Liotti è sicuramente un giocatore che in fascia può dare ed è un'alternativa a Tito. Mi ha citato Garattoni, Garattoni come ben sapete era sicuramente un obiettivo ma come vi ho detto all'inizio della conversazione il mercato di gennaio è molto complesso è un obiettivo a cui non si è arrivati, è stato difficile arrivarci e quindi abbiamo optato per una valida alternativa che è Sciano che sta crescendo, che è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti diverse da quelle di Ricciardi perché è un giocatore che ha un po' più di fraseggio ma un po' meno gamba rispetto a Ricciardi quindi completa un po' quelle che sono le coppie che si vanno a comporre, a formare in ogni zona del campo e d'ausilio vi ho già detto in maniera ampia quelle che sono le caratteristiche. Non ho sentito? Tutte scelte condivise insomma? Sì sì assolutamente e poi c'è Frascatore che va a sostituire ahimè l'infortunio di Benedetti. Allora io insisto ancora sul mercato poi dopo parliamo della partita già si è dichiarato soddisfatto abbiamo comprato sei calciatori nuovi quindi significa per sei profili immagino che avete stilato voglio capire fin quanto è soddisfatto avete stilato una lista di 4-5 nomi per ogni profilo se abbiamo raggiunto nella maggior parte dei casi il top che le aveva indicato questa come prima. Poi il mercato ho l'impressione che sia stato dettato anche da una metamorfosi che pazienza tatticamente vuole applicare nel giro di ritorno ovvero un avellino più camaleontico almeno tra centrocampo e attacco si potrebbe vedere qualcosa spesso o non sempre di diverso se anche in difesa questa squadra potrà un giorno giocare magari pure a 4. Partiamo dal mercato Allora solo nella circostanza di Garattoni e Sciano sono sincero si è provato a prendere Garattoni non ci siamo riusciti e come avevo già detto Sciano è un'alternativa validissima per gli altri siamo riusciti a centrare la prima scelta quelli che erano i giocatori che avevamo in mente e quelli che erano i giocatori a cui volevamo arrivare dal punto di vista tattico l'innesto di alcuni giocatori mi danno la possibilità di cambiare anche il sistema di gioco e dall'inizio e a partita in corso da ausilio uno di questi che può darci questa possibilità così come lo può fare anche lo stesso Russo nel momento in cui riusciremo a metterlo nella condizione ideale e questo è per quanto riguarda dal centrocampo in su per il reparto arretrato vi dico che la soluzione di passare anche a 4 probabilmente si è vista poco ma l'abbiamo anche già fatto è nella costruzione, è nella partita con Io e Stabia l'abbiamo fatto è nella fase di non possesso ed è una cosa che abbiamo fatto in tantissime partite e anche a Crotone l'abbiamo fatta Mister, mi rialaccio la domanda del collega però entro un po' più nello specifico perché ha un po' sorpreso tutti anche la cessione arrivata last minus di Sonny D'Angelo se ce la può spiegare perché ad un certo punto D'Angelo sembrava essere rientrato anche a pieno regime tra quelli che lei guardava con maggiore attenzione sì in un momento di emergenza perché ha sostituito poi Varela però lì aveva ampia scelta e lei ci disse in quel preciso momento che per caratteristiche D'Angelo rispondeva a quello che lei cercava D'Angelo ci ha sempre peraltro detto di sentirsi parte di questo progetto all'ora delle due l'una o è cambiata la sua visione del centrocampo e quindi D'Angelo non aveva più quelle caratteristiche che rispondevano ai suoi piani tattici o il calciatore avrà chiesto più spazio e quindi avrà chiesto di andare via anche se stono un po' con quello che ci era stato detto ultimamente nessuna delle due, D'Angelo non ha chiesto di andare via e io non ho cambiato idea D'Angelo era quel giocatore che aveva quelle caratteristiche che mi servivano in quel momento perché in quel momento eravamo quelli eravamo contati però D'Angelo sa benissimo perché ci ho parlato più volte che tra le caratteristiche che io cerco nei centrocampisti tra quelli a disposizione era quello che ne aveva meno per caratteristiche poi D'Angelo è stato un giocatore dal primo giorno che io sono arrivato che si è sempre applicato, che ha sempre dato disponibilità che quando è stato chiamato in causa ha fatto il massimo e ha dato il suo contributo però io sono qui per fare delle scelte e nel momento in cui ho la possibilità di costruire un centrocampo con delle caratteristiche precise che rispecchino quelle che sono le mie richieste e il mio modo di interpretare il calcio è chiaro che se ho la possibilità di prendere un giocatore che ha appieno le caratteristiche che io cerco il calcio è fatto di scelte e io le devo fare e l'ho fatta con D'Angelo rispetto probabilmente anche allo stesso Dall'Oglio che ha giocato meno rispetto a D'Angelo Pezzella è un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse da Sonny D'Angelo quindi non è una mezzala, Pezzella è un mediano quindi se proprio dobbiamo fare o spiegare la scelta tra una mezzala e un'altra io lo farei più tra D'Angelo e D'Angelo, non tra D'Angelo e Pezzella perché Pezzella è un'alternativa a Palmiero quindi per quanto riguarda la scelta tra l'uno e l'altro D'Angelo è un giocatore che ha dentro le proprie caratteristiche ciò che io chiedo ha avuto da quando io sono arrivato, tranne la prima partita e la seconda a Sorrento a potenza contro il Sorrento dei problemi fisici ma ha le caratteristiche che io cerco nei centrocampisti ora ha avuto la possibilità di allenarsi con più continuità sta riprendendo una condizione giusta ed è un giocatore che può darci una mano Mister, buongiorno le chiedo come la condizione fisica ne abbiamo già un po' parlato però dirò che è da ausilio come impatto come sono arrivati, in che condizioni anche se hanno chiaramente avuto il loro percorso nella prima parte della stagione Beh, da ausilio è un giocatore che nelle ultime uscite del Cerignolo ha sempre giocato quindi la condizione è più che buona mentre per Rocca Rocca viene da un problema fisico che ha avuto il 23 dicembre ora con i tempi ci siamo però c'è bisogno di mettergli un po' di allenamenti intensi dentro le gambe Mister, buongiorno Buongiorno sta passando un po' in secondo piano il campionato c'è questo Monopoli che è radiuscito a due risultati positivi le chiedo come ha visto la squadra dopo la sconfitta e adesso non resta che confermarsi in trasferta da lì si riparte ancora una volta La squadra l'ho vista arrabbiata come giusto che sia e come mi aspettavo che fosse perché si è persa una brutta partita dove abbiamo preso dei fischi meritati perché abbiamo perso una partita in casa contro sicuramente una buona squadra ma si era messa in discesa per noi e siamo stati poco bravi a sfruttare la situazione e quindi come è giusto che fosse c'è quella arrabbiatura, quella voglia di rivalza con la voglia di rimettere a posto ciò che non è stato fatto bene nella partita precedente e quindi domani mi aspetto questo tipo di partita questo tipo di atteggiamento, questo tipo di voglia Il Monopoli è una squadra che ha avuto delle difficoltà fino a qualche partita ora viene da due risultati utili due risultati importanti dove ha preso autostima, ha preso fiducia e quindi è una squadra in salute si è mossa come tante altre squadre anche sul mercato in maniera oculata è andata a prendere dei giocatori secondo me funzionali per quello che loro vogliono fare e che vogliono raggiungere ma molto dipenderà dal nostro atteggiamento e domani voglio vedere una squadra che con il coltello fra i denti dà il primo al 95' Buongiorno mister una volta chiuso il mercato che è comunque un elemento di disturbo rispetto all'equilibrio e la serenità di uno spogliatoio le gerarchie sono definite per esempio dall'olio resta e quindi sa di restare sa di essere parte del progetto lui come pezzella come per altri le chiedo anche se le gerarchie un po' dopo il mercato e dopo la sconfitta col sorrento sono in discussione penso anche al dualismo paterno-Gori nel quale forse l'impressione dall'esterno è che Gori ne soffra un po' di più però è un'impressione poi può darsi che non sarà così e se la soluzione per la quale ho putato per la partita casalinga cioè con Varele Sgarbi dietro la punta è una soluzione più casalinga e quindi fuori casa invece preferisce puntare sul collaudato 352 e rivedere anche Palmiero che lei aveva detto l'ho visto stanco e quindi gli ho dato un turno di riposo ci ho provato Sì, partiamo dal presupposto che la concorrenza deve far arrabbiare deve infastidire tutti non solo tra Gori e Patierno anche tra Pezzella, Palmiero tra Varela e Dall'Olio Armellino tutti devono sentirsi infastiditi devono sentire l'obiettivo era esattamente quello perché così facendo ognuno di loro spingerà sempre al massimo chi gioca sa che deve dare il 110% e chi non gioca deve farsi trovare pronto perché è già successo in passato e loro sanno benissimo che nel momento in cui c'è bisogno io non ho problemi a cambiare e poi sta loro a farsi trovare pronto e coloro che si faranno trovare pronti poi avranno la possibilità di ritrovare continuità e di giocare con continuità questa è l'idea generale di ciò che si vuole creare per far sì che tutti spingano al massimo e anche con gli interventi fatti nel mercato io credo che questa situazione l'abbiamo sistemata il modulo forse da fuori sembra che con Varela e Sgarbi il sistema di gioco sia diverso ma non è diverso cambiano gli interpreti cambiano le caratteristiche ma Varela ha giocato mezzala è chiaro che poi in fase di attacco ha una caratteristica diversa rispetto ad altri giocatori per cui è molto propenso alla fase offensiva e sembra quasi che lui lavori su una linea d'attacco Buongiorno mister immaginiamo che questa da quando lei è arrivato qui è stata una delle settimane più difficili da vivere anche per l'impatto con l'ambiente in generale nonostante questo ieri insomma siamo stati in giro per la città a fare un sondaggio e comunque c'era ottimismo anche per il futuro e per il finale di campionato volevo sapere lei come si colloca in questa ottica e anche alla luce del fatto che a Monopoli domani ci saranno 500 tifosi e il settore ospiti come sempre è andato esaurito dopo una sconfitta è normale che ci sia sconforto è normale che ci sia rabbia la capisco dopo la gara abbiamo preso i fischi li abbiamo accettati perché erano secondo me meritati per quanto detto anche nella nella risposta che ho dato prima ed è normale che nel momento in cui i risultati soprattutto quelli in casa perché poi la rabbia il dispiacere la delusione vissuta lunedì sera dopo la gara non erano completamente per la gara di lunedì sera ma erano per tutte quelle gare che purtroppo in casa non riusciamo a vincere è passato fin troppo tempo e quindi era un accumulo secondo me di rabbia e delusione da parte dei tifosi come è giusto che sia e quindi quando le cose non vanno il mio lavoro diventa importante se mi devo collocare in una posizione ora mi colloco in una posizione principale in una posizione centrale perché è in questo momento che c'è bisogno del mio lavoro del mio intervento molto di più di quando le cose vanno bene perché quando le cose vanno bene a volte paradossalmente potrei anche non esserci perché i ragazzi vanno da soli in questo momento invece diventa determinante il mio lavoro mister buongiorno due domande brevi come mai tiriamo poco dalla distanza è fatta eccessione per la partita di Foggia nell'ultimo periodo stiamo sfruttando poco anche le situazioni della palla inattiva vedi 14 calci d'angolo contro il Sorrento e pochi traversoni funzionali in area di rigore allora sulle palle inattive come le ha appena detto ci siamo arrivati tantissime volte ma ci siamo arrivati con poca qualità nel tipo di calcio e in una cosa in una situazione di questa avevo anche motivato una delle scelte fatte nella gara scorsa dove avevo deciso di mettere Liotti che ha un calcio diverso rispetto a quello di Tito e dove in un calcio d'angolo poi eravamo anche quasi riusciti a centrare la porta dove sul calcio d'angolo di Liotti Gori è riuscito a colpire la palla di testa tirandola poco fuori dalla porta sopra la traversa per quanto riguarda i tiri in porta questa non è difficile come domanda e anche come risposta perché è normale che soprattutto nell'ultima partita quando una squadra che è in vantaggio in inferiorità numerica si pone con tutti i giocatori sotto la linea della palla ridosso della metà al campo fai fatica a pensare di poter tirare da fuori aria è molto più semplice lavorare con le catene lavorare con le catene sulle fasce per cercare di arrivare al cross cosa che anche la partita di lunedì sera ci ha visto poco partecipe poco propensi a farlo o perlomeno nella qualità dei cross sono arrivati poco lenti e imprecisi buongiorno che cosa manca all'avellino per dare continuità di prestazione e di risultato e poi volevo chiedere dopo la partita il direttore Pedrinetti aveva dichiarato che ci è mancato un po' di forza mentale ecco come si colma questa lacuna grazie sicuramente mancano questi risultati in casa tra le muramiche davanti ai nostri tifosi davanti alla nostra gente e questo è un po' che secondo me manca e dobbiamo trovare il modo attraverso delle situazioni tattiche ma anche attraverso un lavoro mentale cercare paradossalmente di trovare quella serenità che poi ci possa portare alle vittorie anche anche in casa però ora dobbiamo affrontare la partita di domani e la dobbiamo affrontare nel migliore dei modi perché quella di domani è una partita importante e delicata per noi come sta Ricciardi che aveva avuto un problemino durante la partita se ha recuperato se sta bene e poi su D'Ausilio c'è un dato particolare l'anno scorso subentrato 21 volte su 33 presenze le chiedo se questa era una strategia precisa per le caratteristiche del calciatore se è qualcosa che potremmo vedere anche ad Avellino insomma la sua avventura bianco-verde allora Ricciardi valuteremo ancora oggi perché ha avuto davvero una bella botta dopo pochi minuti e poi è andato anche a influenzare quella che è stata la sua prestazione della gara e per quanto riguarda D'Ausilio è chiaro che l'ho sfruttato in quel modo lì perché avevo una squadra con caratteristiche diverse avevo una tipologia di gioco diversa venivamo da un percorso diverso e quindi è stato sfruttato in quel modo lì perché secondo me era il modo migliore non è detto che venga sfruttato solo ed esclusivamente in quelle circostanze in quelle situazioni perché poi ha le caratteristiche e sta crescendo e sta acquisendo la maturità per giocare anche nello stretto grazie mister grazie e buona giornata grazie